Intelligenza e istinto. L'intelligenza è un attributo del principio vitale? Risposta. No, poiché le piante vivono e non pensano. Hanno la sola vita organica. Intelligenza e materia sono indipendenti l'una dall'altra, già che un corpo può vivere senza intelligenza e l'intelligenza non ha bisogno degli organi materiali che per manifestarsi. A rendere l'intelligente e la materia animalizzata è necessario lo spirito. Grazie.